Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Mi Friend Pedro Allora, dove andremo quest'oggi a fare... a ricominciare? Comunque continueremo Eravamo bloccati a la città del Natale Sì, proprio, la città del Natale Babbo Natale è fiero Ah no, siamo solo ricominciati Deve essere tipo district now, ok, conti Andiamo a altri Oh cavolo Ok, eravamo in questa città Ok, allora, dobbiamo fare molta attenzione Oh, ma quanto un rumore fa? Salto Non è andata bene Allora, se facciamo una meccanica in stile Spider-Man amico Ok, adesso non è andata bene Allora, se facciamo una meccanica in stile Oh come si facciamo una meccanica in stile la giornalità del monte questa vissuta è solamente andare a far casino abbiamo già risolto i nostri cari 25 minuti ok allora andiamo ok ma vai via Tu è la dannata aspro Siamo un po' più monizia Come si fa? Aspetta Aspetta Così proprio andiamo Ad una miracolosità che è Manco Gesù Oh 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 Game over Game over list per Mario 64 Che c'è Che io mi dimentico sempre che Eh ma Stefano perché Perché era un video live action E tu lo consideri come uno dei tuoi video Più sbagliati di Youtube Come ha fatto a sbagliare Dal vostro stesso del tutto Eh ragazzi Ci vuole un mi Ci vuole coraggio Ah Bop 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 Vai Ah 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 Siamo soli a 5 minuti Vieni Sa che questo video ne raggiungerà 30 Adesso dobbiamo Ecco E volevi E volevi Adesso dobbiamo fare un po' di lungo Il film di questo canale è molto felice, quando fai un film di bastardi dentro, il film di bastardi. vai ah lo sapete che la vera kill si fa fortnite superman superman zero super schifo di più va va più superman dico più io dico superman facciamo così anzi facciamo da challenge questo video se dico superman la terza volta il video finisce ma non quando l'ho detto se tipo muoio per tre aspetta ma che cosa è questo ah stupidi idioti dobbiamo fare vai ma va via che tu sei più piccolo di un pezzetto lego un pezzetto lego sono armati di moda questa è comunque la società di giocatori più grande di sempre e quando intendo più grande intendo la più grande che abbiate mai visto ok abbia ok hanno già ci sono preoccupare e ho colpire la leva aiuto oh basta fare questo musulmani musolini 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 time quando iniziava con l'edito mi sono esucidato ah dettagli johnny bravo la società che ha prodotto sto gioco e infame ma come fate a vendere una roba del genere cioè ci sprechiamo tempo del video che siamo già a 9 minuti ok mi dispiace ma adesso come congratularvi se non dire che ho già ricevuto una b per bravo perché ho detto johnny bravo ho detto più vabbò comunque dal vostro stefano è tutto e ciao ragazzi da h stesso del h stesso di h stefano ma non me ne frega un cavolo che voi me li andiate comunque il livello era difficilissimo un solo livello due livelli domani ciao 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 ciao